Numero di votanti 733, maggioranza dei membri che compongono il Parlamento 374, voti favorevoli 383. Voti contrari 327, astensioni 22, schede nulle 1. In base a tali risultati, la candidata alla Presidenza della Commissione europea proposta dal Consiglio europeo e quindi è stata eletta dal Parlamento europeo. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen per la sua elezione. Le porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. In conformità dell'articolo 124, paragrafo 3 del Regolamento, ne informerò il Consiglio, invitando quest'ultimo, nonché la Presidente non eletta, della Commissione, a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. Firmerò adesso la lettera di notifica della decisione del Parlamento. Grazie. Grazie.